Siamo in fase di conoscenza, abbiamo due caratteri forti e appena lei fa qualcosa io faccio un passo indietro, ha fatto così anche lei, abbiamo caratteri molto simili. Come mai non fai il passo indietro dopo che ieri sera ha baciato Riccardo? Perché non ha fatto nessun torto a me, perché è giusto che lei faccia così, perché siamo in una trasmissione dove dobbiamo conoscere persone. Ma dove c'è scritto? Tu hai firmato un regolamento dove c'è scritto che tu devi conoscere 10 donne? No, no. Questo regolamento non l'ho mai fatto nella mia vita. No, ma siccome continuate a dirlo, io non mi risulta che ci sia un regolamento dove c'è scritto Saul deve conoscere 10 donne, c'è sto regolamento perché vorrei vederlo, no, non c'è. Ma io per questo e anche per avere una conoscenza un attimo più tranquilla, io ho scelto di non dare poi numeri a altre persone dopo essere uscita con lei. Ma porca miseria, tu li hai dati e che non te chiamano, è questa la differenza? No, Maria, ma le perdonami, non è così, scusami. Ma ho capito male. Io il primo giorno, no, Maria, allora io il primo giorno mi viene chiesto a chi vorresti dare il numero, io a chi ti piace. Ho capito, tu non sapevi come funzionava la trasmissione. Mi dicono, guarda, tu a queste persone non lo puoi dare, ok, allora lo do a queste due. Sì, le hai dato a quattro. Nel momento, nel momento che hanno detto, a Giulia non lo puoi dare, capisco l'italiano, a Giulia non lo puoi dare, ti dicono che adesso non è perché c'è Michele. A un'altra non lo puoi dare perché è venuto per qualcun altro, rimane Daniele, rimane serena. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti